Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Grazie a tutti! Alla! 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 Ci fu! Sì, è vero! Ah cari! Cosa! No you're not.. no 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 lì c'è narei should Musik si mad lemma sa vodori e Sì Sì Giuseppe in this corner or something he's about a farm he's about a farm he's dead he's dead what does stay in the fucking corner mean bro please man holy fuck I said I'm not gonna get knocked I'm not gonna get knocked god damn it man never play this game again please never play this game oh my god bro I'm not gonna get knocked and it's 5 HP running in the open holy fuck dude you're from EU bro like insane in EU like insane in EU è come tech in a A, bro. All right? Maybe inside in a U è come no-co. Like, we just can't compare. All right? Just chill. Let me boost. All right? All right. All right. Good. All right. Come on, let's open this onto... Come on, look! Sì! e 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